Nel video di oggi andremo ad affrontare l'enorme labirinto pericolosissimo della bestia Marci. Il nostro obiettivo sarà infatti quello di raccogliere dalle varie chest, chiavi, tesori ed equipaggiamento per sopravvivere alla bestia e a tutte le temibili trappole che saranno sparse per la nostra strada verso la salvezza. Riusciremo ad entrare all'interno della magione e a non perdere la nostra unica vita? Beh, non vi resta che guardare il video per scoprirlo. Ehm, ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video di Minecraft insieme a LocoLoki sia alla bestia Marci che arrabbiati... Ma Marci, calmati, non devi ucciderlo ancora Loco, non è ancora iniziato il gioco! Niente, è arrabbiato nero. Comunque, oggi ci andremo ad affrontare in un labirinto enorme e dovremo riuscire ad arrivare alla casa. Ragazzi, potete smetterle, per favore? Ma perché Loco muore con 20 spadate? Ma si sarà dato qualche effetto, tocca un cheater. Comunque, voi lasciate un mi piace e scrivete, come sempre. E nulla, iniziamo subito, signor cercatore. È morto? Oh, ho già vinto. Vabbè, io prendo il mio kit. Allora, spadina, mele, cibo e i due power-up. Loco, tu che power-up hai? Scusa, ti potresti uccidere, per favore? Certo, con piacere. A posto. Allora, noi partiamo subito, abbiamo 30 secondi di stacco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Scusi, puoi smettere di contare ad alta voce? Con calma, Loco, con calma, dove stiamo andando? È verso i bicconi. Ma no, Loco, dobbiamo trovare prima la chiave. 6, 7, 30... Loco, 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 Loco... Dove è ragno? Dietro di te! Un geragno, non vedo ragno. Non è deciso io, indovina un po'. Bravissimo. Mi sta arrivando. Allora, io farei una cosa abbastanza intelligente, so subito un power-up. Aspetta, pensa allo scheletro tu, io mi nascondo un attimino. L'alto, 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 l'alto. E' tra l'alto, 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 non credo ci sia niente. Aspetta, facciamo così. Non dovevo dire della torre, adesso quello ci può vedere, lui può fare dei po' così belle, mannaggia. Allora, facciamo così. Sono al... Mi nascondo in attima e uso il power-up. Allora, dove cavolo è Marci? Dove diamine sei? Vedo Loco ma non vedo Marci. Ah, c'è una cassa! Ho visto Marci, ho visto Marci, è nella zona della torre. È nella zona della torre. Ok, ok, sono scappato, io me ne vado via. Anzi, aspetta, possiamo fare anche questo volendo. Dove sei, signora bestia? Eccola lì, eccola lì, il nostro bel goblin. Allora, via. Dico, ci sono due cestri. Siamo illuminati, Loco, siamo illuminati. È la fine, dobbiamo scappare in qualche modo. Ci sono due cestri. Sei lontanissimo, Loco. E l'ho perso. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Sono messo anche malissimo dentro una pagatela. Ma ragazzi, è costissima questa cosa. Eh, io non sto trovando un bel niente. Pensa un po', non trovo neanche le ceste del labirinto. Ma come stiamo facendo qualcuno? Ho trovato una cesta, Nico, però mi ha attaccato. Oh, scusa, 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 scusa. No, tieni questa, mangia, mangia, mangia. Vini come... Andiamo insieme, Loco, dobbiamo andare insieme. Se no, ci spaventiamo ed è un casino. Raga, ma è difficilissimo. Di qua c'è un cest assassino attento. Aspetta. Non dovevo tornare qua. Di qua, di qua, mi ha sento di qua. Dove stai andando? No, questa è stasita. Ti ho preso, Loco? Eh, sinistra, qua. È difficile sta cosa. Sono all'inizio. Dove diamine siete andati? Non lo so, io sto andando tutti qua. Aspetta, allora, facciamo intanto così. Ok, la besta è lontanissima, a posto. Ok, perfetto, il brutto goblin. Il brutto, qua non marci, dai. Dove ti è? È brutto. Va bene, Loco. Loco, adesso ti cerca. Loco, sei finito, ti puoi fiutare. No, no, tranquillo, tranquillo. Loco, Loco, va bene. Va bene, Loco. No, no, ma che è una cestrappola. Aiuto. Loco, dove sei? Loco, mi fanno male quelle cose. Loco, avevo tre quali. Sono saprò vissuto non so come. Oh, mannaggia. Fa molto male, fa decisamente molto male. Dove diamine sto andando? Eh, mannaggia. Mi sono completamente disorientato. Qua c'è un morto. Loco, 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 Loco. Ho trovato una cesta. Loco, Loco, Loco. Ole. Ah, posso. Abbandonato dal mio compagno. È giusto che sia lui. Perfetto. No. È stato molto cattivo. No, Loco. Cosa? Ho trovato la cesta, ma non ho la chiave. Ti do una mano, ti do una mano. Ho trovato la cesta. No, non puoi. Aspetta. Non puoi. Facciamo così, facciamo così. Allora, lui è lì. È lontanissimo da dove sono io perché... Ma perché c'è una cesta che vuole? Io sono lì dove c'è quel beacon. Ok, siamo lontani. Questa non c'è il beacon. Bene. No. Ti sa zitto. No, 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 no. Non hai capito. Hai capito male. Perché cosa sei, Nico? Hai capito male. Sei un pirla. Hai capito male. Te lo dico io che hai capito male. Hai capito completamente. No, ragni pure. Ragni no, ragni no. Dai, non farmi urlare. Mi fai paura. Ok, sei ancora... Hai usato i tuoi power up. Aiuto. 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 Dove sei? Soppa di te, Nico. Soppa di te. Sei zitto, Loco. Dove sei? Dai, presentati. Eh, raga, c'è un problema. Palesati. Sono in un buco che non posso salire. Come sei in un buco che non puoi salire? E mod 1. Ma guarda che c'è. Ah, lo sta citando, sta citando. Infatti ne approfitto per scappare, guarda, lo lascio. Lo sto citando, Loco, non posso, non potevo salire. Ma Nico, possiamo controllare. È il fondo, il fondo chiuso. Qua c'è qualche... Mille, 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 mille. Ok, mangiamo almeno il risulcito un pochettino della mia vita. Nico, alla fine. Lo sento, lo sento, lo sto sentendo. Delle foglie. Aspetta, facciamo così. Ciao! Scappa, scappa, Nico, scappa. Come va? Tutto bene? Via! Sì, ok, perfetto, perfetto. Ho guadagnato un po' di tempo. Nico, ma se io ti dessi il mio power up... Eh, in realtà potresti farlo, però prima devo capire dove... No, di nuovo nel buco! Devo andare da quella parte lì dove c'è quella panchina. Come ci arrivo? Da questa parte. Guardate se è possibile che devo stare attento a tutto ciò che incontro. Tutto, non posso aprire neanche una cesta perché... Ecco, questa è tipo una trappola sicuro. No, 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 no. Ok, sei lontano. Iron key, iron key. Oh, mio Dio. Quest completed, ok. Questo è il primo dei tre obiettivi. Chi ha... No, vai via. Ok. Maggio, ragazzi, devo ammazzarmi. Devo ammazzarmi in qualche modo. Ah, e se vuoi ricorrere a queste cose, eh? Io devo ritornare. Nico, stai fermo. Perché devo... Non devi muoverti. Non devi muoverti. Perché devo stare fermo? Ma è stato ucciso? Ma che cavolo combina? Nico torna indietro Torna indietro Nico No loco devo arrivare al foro Torna indietro Mi hai illuminato questo Torna indietro Nico No loco perché Cosa c'è dietro Non posso È dietro di te Dov'è? 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 Detro di te Eh sì Eh sì Mi dispiace Mi dispiace Deve ricorrere In due cogne Dai Nico Ho preso la chiave Puoi rinascere Dai una volta Uno di voi due può rinascere Ok nascoglio Ciao loco Nico fermati Guarda dietro di te Ok Ok Ah ho capito Bello questo È stupido Bello Ho capito Allora se non ricordo male Era tipo da questa parte Mi ammazzi? Ma perché tu ti vuoi far uccidere ogni Ah per rispondere all'inizio Capito sto ragazzo Che ci combina Loco Da che parte devo andare? Allora sei da parte opposta Fammi lo spirito Sinistra 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 Destra Aspetta ma che realtà posso fare anche così? Ok Ok dovrei essere tipo in quella zona lì Quindi devo Ragazzi Ho sprecato il power up Mannaggia Questo power up mi dava forza 3 L'ho sprecato completamente Via Scappa Scappa Alla dritto Ehi loco dritto Cosa vuol dire? Ragazzi ma io muoio Sinistra Destra Sinistra Sinistra Loco mi ricordo il cadavere Ecco guarda Guarda cosa ho trovato Tappiamo sta chest Ok Bottone Bottone che può essere piazzato sulla porta No 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 Ma non ha senso Dai Ma sono morti No No Avevo preso il bottone Mancava solo arrivare alla porta Mamma mia Va bene Eh raga sono belli up questi cose Adesso lo faccio io il goblin Adesso cercate voi due Voglio vedere se riuscite a entrare dentro quella magione Sei diventato la bestia Ragazzi avete 30 secondi Muovetevi Sto picchiando loco Sto picchiando loco 1 2 3 4 5 E puoi essere zitto porfavore Vabbè sto zitto se mai tanto La tua voce mi dà fastidio Io ho aperto due casse trappole Come ti permetti Bravo Complimenti mi raccomando Fatti uccidere da quelle Così io non lo voglio da fare Ma che cosa hai vinto Guarda che manca un po' Quanto manca che io parta Scusate Manca 10 secondi 9 8 7 Ma perché sei vinto qua Che è l'unica che conoscevo di certo Ma come Ma ti sei ricordato le c... Va bene Parto subito Allora ragazzi Siete pronti Marci Ad urlare di terrore Eh no per niente Oh da questa parte siete Siete da questa parte di qua Perfetto Perfetto Allora questa strada me la ricordo Sto andando verso la c... Perché c'è una c... No C'è una c... C'è una c... C'è una c... Vuota L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Peccato Mi serve la chiave Eh ragazzi La chiave non è in quella c... È da qualche altra parte nel labirinto Mannaggia Abbiamo perso Marci No non è detto Raga però è giusto che c'è una c... Vuota Sì è giusto Non è giusto Non è vero Ho visto una preda Ho visto una preda da questa parte così No coloco l'occhis Che dici eh No 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 Mi sono bucato in una regia No Bravo Loco Ma che peccato Quanto mi dispiace Quanto mi dispiace Quanto ti dispiace Immagino Tanto so dove siete Sento Anzi guarda che posso fare anche così Mi orientiamo via Allora Da che parte siete Loco guardali qua Loco guardami qua Guardami qua Eh ok Ok Io vi ho visto Aspetta Aspetta Che geniale Vieni vieni qua Vieni qua Perfetto Cosa state facendo scusate Niente no niente Almeno sono cose legit mi auguro Ti pare che io e Loco facciamo cose non legit Scusami Eh quello è il problema Che mi pare molto Eh scusami un attimo Dove diamine siete finiti Non c'è nessun Qui c'è qualcosa Cest vuota Mannaggia avete già lottato tutto Avete già preso tutto Eh va bene Va bene Vuota di nuovo Raga Ma sono tutte vuote le chest Allora Allora lo dico io Allora da che parte siete È a destra Effettivamente è molto più la bestia Sai Marcio capisco perché eri così potente prima Sono No mannaggia sono dentro un blocco Mannaggia Aiuto Cesto Ho trovato la chiave Ho trovato la chiave Loco Loco citta Fammi la strada No Non si può cittare Non si può cittare Non si può cittare Perché i paura Non vanno Dove siete No 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 Fiuto della bestia Ok siete in quella zona lì Io ero lì vicino Interessante Ragazzi quella chiave non apro la magione Quella chiave apre la chest Loco Dai veloce Dai quanto ci vuole Ho cittato a stare a mia tele Loco bravissimo Vedo dei buchi Bravo Stai lavorando bene Ma in che senso Vedi di buchi Bravo Loco Ragazzi cosa state facendo No niente No perché No perché io sarei per un fair play Non per un Bravo bravo Sì Loco ok Raga ma state bloccando davvero Ah no ma vai Ho visto il buco Non funziona Ok è andato Ok perfetto Ma raga siete già alla chest Vai andiamo 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 Raga ma chi state facendo Niente niente Noi niente State Ah mio dio Adesso ci penso io Aspettate un attimino Che mi torino il power up Poi vedete con chi Allora Loco Dove sono? Dove sono finito? Loco Cos'è questa zona? Destra 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 Loco Non perso Tengo il tab aperto Se vi vedo in spectator Vi banno permanentemente No no peggio No noi stiamo facendo di peggio Tanto è la mia visuale Ah pure? Cosa stai facendo? La creativa direttamente? Nooo Vai Loco bravissimo Vai Loco In che senso Loco scusami Loco Salto da pezzi subito Oh va che bello qua Interessante Dove è Loco? Dove diamine è? Qui c'è una chest che salta Ma non vedo Loco Loco No sono caduto Porca miseria Loco Ah ci dimmi tu Oh è qua è qua è qua è qua No non volete Dove cavolo è? Ma dov'è Loco? Ah ci ha un chest Lo vedo Apri È lì No Ma che si apre? No fermati Come cavolo si arriva? Oh ma guarda Loco Cristiano Loco guarda la finestra Vieni la finestra Loco Guarda chi c'è fuori dalla finestra Dove sei? Quale finestra? Adesso ci penso io Lo chiamavano il cheater Loco Loco Ciao La bestia è in grado anche di entrare dentro casa La bestia è in grado di sconnettersi dal server Ciao a tutti E felice anno nuovo Se questo vi è piaciuto mi piace iscrizione È stato divertente Ho perso E felice anno nuovo Buona data a tutti Felice anno nuovo